Questa mattina abbiamo audito il ministro Paduan, al che io gli ho fatto una domanda che è a cuore di molti cittadini, ovvero quali erano le loro intenzioni sugli esodati, e Paduan non ha risposto, ha fatto finta di niente. Così come gli ho chiesto come saranno le clausole di salvaguardia, quindi rammento, le clausole di salvaguardia sono l'aumento dell'IVA, e anche qua lui ha risposto semplicemente ci penseremo nel 2017. Una persona, un politico serio non risponde così, deve avere a cuore quello che sono i cittadini, il futuro dei cittadini. Ripeto, un vero politico pensa al futuro dei cittadini.